17 18 minuti su Radio DJ benvenuti alla terapia di coppia di Pinocchio ehm partiamo da queste nuove regole che Asafa Powell questo eh corridore giamaicano ha deciso di mettere a disposizione delle ragazze sono nove consigli per tenersi stretti fidanzati. Non è così bello eh? C'è un po' musuta scimmia. Vabbè comunque detto questo noi ci dobbiamo dobbiamo puntare a queste nuove regole Diego. Allora come funziona la terapia di coppia? Voi chiamate mettiamo uno da una parte uno dall'altra e vediamo quanto le ragazze riescono eh fino a questo momento a tenere fede a ognuno dei punti in questione. Visto che mi voglio offrire anche io come eh come cavia eh adesso Diego è il medico diciamo terapeuta. Buonasera. Io da una parte e il mio fidanzato Emiliano dall'altra. Abbiamo il telefono su fidanzato vero? Sì pronto? Buonasera. Buonasera buonasera. Ciao. Ciao. E Diego il medico non stiamo messi bene. Fatti. Vabbè. Fatti però ormai così. Allora senta eh noi la chiamiamo perché dobbiamo chiedere appunto cosa e in che modo la sua fidanzata eh disattende o meno eh alle regole qui eh previste. La prima regola riguarda il fatto di affidare la la propria felicità eh nelle braccia dell'altro. Lei sente il peso di questa attesa? In siamo entrambi autonomi in questo ma anche se se lo facesse non sarebbe un male comunque. No? Sì no infatti il punto è quello di eh in qualche modo cercare le ragazze di essere un po' indipendenti e non di buttarsi come dei sacchi nella vita degli altri. No 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 più autonomi in questo. Ok. Poi eh il secondo punto importante è quello che le ragazze devono interessarsi anche gli interessi dei loro fidanzati. Sì questo sì lei lo fa anche io se mi posso permettere lo faccio. Quindi in questo brava. Bene. Anche in questo. Andiamo avanti. Non prendetevi troppo sul serio. È molto permalosa la sua ragazza? No. No 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 no. Che buono. Non prendersi troppo sul serio. Mi sembra un po' quei consigli di non mentire a te stesso. Non lo so però. Non l'ho mai messo. Io non l'ho mai messo in pratica. Poi quarto punto ehm non ehm non sbaccare troppo. Non sbaccare eh te 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 te. Cioè di non essere. Va bene essere carine e curate non lo si può essere sempre 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 però non sbaccare troppo e qui eccomi qua. No tu non lo fai e poi anche se lo facesse non sarebbe problema perché appunto se uno sta insieme poi deve stare in casa o in generale come si sente. Sì però che noi Emiliano andiamo avanti. No invece che carino. Pensavo di essere. La gelosia la gelosia. In che modo riesce a controllare la gelosia la sua ragazza? In questo siamo stati bravi tutti e due. Ci siamo abbiamo fatto un grosso grosso lavoro. Diciamo che siamo due col sangue caldo. Sì esatto e quindi ci siamo un po' smorzati in questo. Senti riguardo a qualche sorpresa. Si sente ogni tanto sorpreso da qualche novità da qualche cosa che le prepara la sua fidanzata. Ieri proprio mi ha fatto un regalo. Non dico che cosa però mi ha fatto. Si è presentata guarda questo è un regalo per te. Bravo. Siete odiosi. Comunque andiamo avanti. Poi e sostenere il compagno. Si sente sostenuto nelle cose che fa? Si sente che la sua ragazza è dalla sua parte? Sì in questo abbiamo avuto una discussione ultimamente e poi mi sembra che lei abbia afferrato quello che avevo chiesto appunto di essere più sostenuto nelle mie scelte. Sono giuste le mie scelte naturalmente. Poi questo lo affrontiamo nella prossima seduta. Faremo un focus. No si deve comprare una casa al mare e devo farvi dire spesso ragazzi qua. Poi stiamo quasi finendo. non cercare di cambiare l'altro. Lei si sente che la sua fidanzata in qualche modo spinge per cambiare quello che lei poi in fondo è? No 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 no. Guarda in questo secondo me in una coppia oltre a tanto amore ci vuole anche tanta intelligenza. Cosa che noi non abbiamo naturalmente. Però invece di cambiare l'altro bisognerebbe che l'altro faccia in modo di accettare le cose che non gli vanno dell'altro. I limiti dell'altro ok. Non di cambiarle. Di adeguarsi. Andiamo all'ultimo punto anche perché il tempo poi quello che hai seduto sono molto cari ma molto brevi e l'ultimo punto purtroppo qua io so già che il grosso punto fa alimentare il fatto di non imporre le proprie amicizie sull'altro. E qua purtroppo è qui. Tutti i suoi amici sono diventati amici e portano solo i suoi amici adesso. Purtroppo questo è. E poi tanti sappiamo anche che gli amici sono. Su nove punti direi che può essere andata abbastanza bene. Non a caso porto l'anello. Il dottore sono io poi farò io la diagnosi scusate. Nervoso comunque grazie. Questo è l'esempio di quello che vi chiediamo. Grazie eh mi ti amo. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao anch'io. E adesso via con le telefonate dei nostri ascoltatori. Pinocchio terapia di coppia. Ciao.